Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, Ferrovia Roma Civita Castellana Viterbo dal 10 al 27 di agosto, modifica degli orari di esercizio, rimodulazione del servizio e riduzione delle corse per lavori di adeguamento dell'officina di acqua cetosa in vista dell'avvio del cantiere per il raddoppio dei binari sulla tratta extraurbana. Sulla Ferrovia Metromare invece la prossima settimana dal lunedì 12 a venerdì 16 agosto sarà sospeso il cantiere e la chiusura serale anticipata. Il servizio ferroviario sarà quindi regolare sull'intera linea a Porta San Paolo-Colombo con le ultime corse da capolinea alle 23.30. I dettagli sono sul sito di Astral.